Signori, è tardi, è tardissimo Chiedo umilmente scusa per il ritardo signori Ho avuto un leggerissimo problema di comunicazione dall'altra parte del mondo Con mio fratello che è direttamente in Colombia stavamo cercando di risolvere un paio di cose personali Quindi purtroppo il fuso è questo e chiedo venia per il ritardo, my bad Benvenuti, ben trovati raga, scusate ancora di nuovo il ritardo Mazzate 48 minuti, scusate, scusate, scusate Come va? Che cosa stavate andando a fare? Senza di me, scusate c'è anche il ritardo, si sente il party sotto, macello, scusate eccoci qua Dovrei aver tolto tutto, dovrei aver tolto tutto Ho otto pagine di Every Eye aperte ma non dovrebbe esserci il ritorno adesso Si vola, si vola, ciao Method, ciao Luca, ciao Nick, ciao ragazzi, ciao a tutti, come state? Facciamo una piccola late night Non so, io spero che i ragazzi in programma, i ragazzi della redazione dopo non hanno niente in programma Aspetta, controllo, sta qua sotto No, dovrei essere l'ultimo, a meno che di sorprese a mezzanotte che fra oale fanno cose strane nella notte Dovremmo aver tempo per prolungare questa mezz'oretta che ci siamo persi Quest cattiva condotta, il titolo parla da sé Come sapete, il cattiva condotta io l'ho droppato nella terza settimana della corruzione della città sognante E sono a questo punto, devo fare le particelle E dopo di questo dovrebbe esserci un altro step che parla di invasioni Di kill eccetera eccetera Quindi sinceramente non ho idea se riuscirò a finirla questa sera La quest però ci proviamo Così ci troviamo anche sto dente E ciao Kilo, ciao Mick Plato a plomo No, una cosa molto più tranquilla Una cosa molto più tranquilla Ne plata o meglio Forse un po' de plata Ma niente perché Però il plomo non è sicuro E allora dico subito a gli altri ragazzi che stanno scrivendo nella mia chat Ragazzi se cliccate in alto c'è scritto vai al canale di Evriai Lo dico perché io vi leggo in chat Power, Sabba, Dain, Hydra eccetera Ma poi gli altri non vi leggono in chat Quindi passate di qua Così è tutto a posto Comunque vi saluto Bella Power Ciao Dain che mi chiede Mi dica una cosa Se completo tutte le avventure di un pianeta Le posso rifare? Sì Se vai dall'MPC di riferimento qualcosa puoi rifare E Sabba che mi dice che ha appena visto il video su YouTube Benvenuto Non so se ti riferivi a quello della live O a quello di Dell'evento Del prossimo evento È uguale Switchate 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 Ciao Kel Ciao Ciccio Bella Perché non fai un engram opening? Tipo questi? Eh ho un po' di engrammi da aprire Sarà robaccia Regà Niente di che Ciao Kere Buonasera Ne ho quattro Va bene Anzi sono cinque Scusami cinque Non sono anche più contato Uh Ah quello è figo Il decoro degli stregoni Del casco che ho usato proprio oggi pomeriggio Shader Giubileo imminente Qua c'entra roba del Vaticano Ma lasciamo là E un altro Decoro Allora il decoro del casco Sono molto contento di averlo preso Questo qui me la metto poi Sto cercando di tenermi tutte le armature Della Della Eververse Che non sia mai un giorno mi sveglio E voglio fare l'armatura al 10 Chissà Vediamo E Comunque si regà Di base Di base Mi devo mettere lì A mettere a posto le armature Mi devo cominciare a fare i set per il pvp Insomma Arrivati al 600 Adesso Comincia il min maxing Se vogliamo chiamarlo così Come si usa su The Division E quindi mettere Capito E il pezzo su mobilità E il pezzo su resilienza E il recupero E la mod E il perk E quello e quell'altro Però Lo faremo in un secondo momento Oggi Come Seba mi chiede Andiamo a fare azzardo Lo faccio in team Con gli altri E In base a come saremo con la quest In base al tempo che ci metteremo Andremo poi a fare Delle competitive Non lo so Dipende Dipende Vediamo Ciao Zimo No no Nessuna riunione di condominio Basta regà Dopo quella di ieri Penso che non ne farò più altre Ciao peperi Buonasera Allora Sblocco Sblu Beh Sblocco Smudo Smudo e sblocco Gli altri in parti Così li sentite E partiamo Ciao Guardando 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 Cavolo di Impatto Ciao Buonasera No ma avete droppato Buonasera Ah buonasera Ah così Come l'hai preso però Fuorilegge Tanta roba Caricatore assassino Minchia C'hai anche caricatura Caricatore accaduta Per caso Non lo so Vediamo un po' Caricatore Falangio No 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 Però c'è la velocità di ricarica Eh Buono Eh perché Nel 110 Puoi spara lento Quindi ci sta Spara lento Però con la velocità di ricarica Buder Si fa che l'ha trovato Proprio Goodroll Capirai Buder Figurato se non trova Il Godroll Questa è la nave Del ride Raga Questa è quella che si droppa Se sbloccate il desiderio Prima del ride E poi aprite la cassa Che sta dopo Morgat Potete trovare questa nave qua Che comunque è un reskin Di una nave vecchia Quindi La forma Non è nuova È familiare Quindi La butto lì ma Io non ho trovato più una chiave Io non ho questa chiave invece Ce l'ho ma no Ce l'ho da due settimane tipo Ancora non l'ho bella Come si chiama chiave Luccicante 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 sì Finalmente mille voci L'ho droppato ieri Anzi ieri e oggi Vado a prendere Tagliate la mingo Andrea tu le hai prese? No ma non mi interessano Grazie Io le vado a prendere Perché ti danno Divendo Sì Sì vado pure io Ah vabbè Vabbè dai Sì vabbè le vado a prendere Dai Sì però sono fastidiose Regà ce n'è una Che devi uccidere Con lancia granate Allora no Non le vado a prendere Ci ripenso Ma aspetto Ma aspetto in orbita Raga ma a voi Vi funzionano le ricompense del clan A me è buggata Cioè era andata fino al 80% Potevi che se è razzerata Non so perché E non lo so Non lo sto facendo neanch'io I'm sorry Io so far giusto Se tante volte mi droppa Anesodico Visto che ormai Ma una cosa C'è una taglia del clan Che Se è completata Te ne dà un'altra Automaticamente Se avete fatto caso No Che taglia? Sì È una taglia Vi dico qual è E però io adesso Già ce l'ho avanzata Perché La completi Te ne dà un'altra La completi Te ne dà ancora un'altra E non so se va avanti All'infinito Ma questo è infinito Non ho capito Di che stai parlando È una taglia Una taglia settimanale Eh vabbè Una taglia Ve lo discuso Allora Eh adesso Me ne si chiama Tiro al bersaglio Sì Dove ce l'avete voi Senta che io Le taglie del clan L'ho fatte con quella Le altre Non lascia Sto Una copertina di youtube C'era The Division Io che ci speravo Ma in realtà Uso sempre la stessa Per every eye Sì Diciamo che quella Mi identifica Dovrei cambiarla Ma Caro Matt Mi dispiace Non ho capito Di che quest Stanno State parlando Ma era questa È una taglia Una taglia Che Sai le taglie Taglie Le clan Una volta Finite Basta Stop Finisco Ce ne sta una Però Che se è completata Te ne fa n'arte Automaticamente Te ne è rompa un'altra Sì Aspetta che Luca Subito ti scrive È normale Da venerdì Ci sono le tre taglie Del clan De 750 Pie Appena le complete Te ne danno Una nuova Sempre di clan A random Lo fanno Anche quelle Di azzardo Grande Luca Sempre sul pezzo Le sa tutte Regali Sa tutte Credevo fosse Tipo un errore Ma perché S'ho spawnato Mezz'ora dopo Madonna Ma ancora in torre State Mamma mia Bungie Please fix this Ma se io Il gioco Lagga un pochino Di più Non lo so C'è le regali Che fa cagare Oggi abbiamo fatto Una competitiva E iniziava A laggare a tutti Senti che la squadra Questa è casciata Competitive Io sono andato Sì è andato Sì è andato sulla città Sognante A giù Un calo di frame In continuazione In realtà Anche mentre stavo Facendo il Flawless Io Ho laggato Sì no Era un lag Continuo Era un lag Continuo Sei Io in realtà Non ero caduto giù Perché volevo cadere Che Quel frame Tutte scuse Tutte scuse Tutte scuse Tutte scuse Qui su every eye Met non lo so Non penso a breve Comunque Su da me Non lo so Vediamo Non c'è niente In programma Ancora però Allora Quando avete fatto Aspetto in orbita Io Azzardo Bene 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 Cosa abbiamo Qui in servo Per voi Ballerini Balliamo Ballerine Balliamo Caballino Arrivo Caduti all'orizzonte Dunque Per completare La missione Del sussurro Quanto potere serve In teoria Noi L'abbiamo finita Che eravamo tutti Al 380 La prima volta Quindi Se vai da solo Non lo so Dipende C'è gente che L'ha finita anche A 380 Da solo È difficile Consigliarti Una luce minima Dipende anche Un po' Da Da quanto sei Tu Prepari Diciamo così Vado in orbita Posso? Io sono in orbita Potete unirvi Sì Sì per me Poi Domani Domani Giorno Ecco di qua Le campane suonano Quindi 15.000 E il reset Giusto? 13.700 Io so Sì Sì 15.000 Chi di voi ha già resettato? Scusa? 13.000 Io devo restare la seconda Io devo restare la prima Sono 13.000 E 4 Mi sembra Io so 13.000 E qualcosa Pure io Non lo dico Siamo uguali È che Giocando da solo In contri squadre Veramente di merda Oggi mi sono arrabbiato L'ho notato L'ho notato Diciamo che hai fatto Un'uscita Poco felice Ma Qualcosa È bene Ma è staccato Bestemmiando Non credo di averlo fatto Beh 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 Devo andare a clippare Oddio Se l'ho fatto È stato veramente inconsapevole O meglio Pensavo già di aver staccato No Purtroppo il microfono Era bello che ha aperto 100 Vai adesso Donazione live Raga Attivo Attivo Gli alert Quando vuoi Niente Perché quando Coso Gli diceva Guai Vai a mettere Le particelle Che puoi evocare Il primordiale Loro stavano ancora Lì a sparare In realtà Lato server Hanno fatto Una manutenzione Straordinaria Che è finita Circa un'oretta fa Proprio per fixare Questi problemi Di lag Mi dice Sempre dalla regia Forse domani La scuola dove vado Io sciopera Quindi mi aspettano Un bel po' Di ore In pv E su destini Bella ciccio Allora Bella per te Ciao Matt Buonasera Abbiamo un titanone Col punto di fusione Assolutamente C'è il signor Apo Io sto con i coltellini No Metto pistola No Pensavo non ci avessi Il cacciatore Eh purtroppo C'ho la quest Con questo Vabbè Ma facciamo La freccia Facciamo le maliarde Con la freccia Aspettiamo Che arriva Per 4 Punto di fusione Due coltellini E sono morti Per me invece L'hug era dovuto Proprio a loro Che facevano manutenzione Beh è probabile Rega Io allerta meteo Si punta le 8 ore 8 ore filate Di destini Oh ma solo qua Ci sta un sole Che spacca le pietre Che miseria Eh no Mi sa che al nord Da qualche parte In Liguria Forse sta a fare un po' De casino Anche giù In Sardegna Ho visto Sta a fare un casino Da per tutto Qua no Qua vorrei tanto Di solito Qua quando piove Si allaga tutto Quindi niente Della università Invece no Col cavolo Ma no Matt Figurati Ma che mia Stai scherzando Quanto durerà L'evento di Halloween Quanto durerà Rega Lo sai che non ce l'hanno detto Sicuramente fino al 30 Fino alla fine No Fino al fine mese Eh però Al 30 si attiva La quest Quella del Cryptarchia Non so se ci sa Può darsi che dura Un mese intero Dal 16 al 16 Cioè Può darsi Può darsi che sia 4 settimane Cosa c'è sul menu La quest Alveare La cena con il morto Che è morto E tutt'altra Che poi Sei veramente morto Ops Scusate Che ti manca da fare Di cosa Del cattivo condotto Allora Devo fare Le particelle Che sono all'86% E poi Il resto Penso che Devo uccidere qualcuno In Invadendo No mi sa Vincere partite Ma quella Invadendo Già l'ha fatta prima C'è la prima Eh non mi ricordo Vabbè Appena prendo Ste particelle Lo saprò Allora Eccomi qua Ho dovuto cambiare il salto Che c'è il salto doppio Per il pvp Uh le prendo io Sapete che era Veramente tanto Che non entravo In azzardo Ma proprio Un botto Regà Dopo aver fatto Le primi step Del cattivo Regà Io Essere sincero Mi ero Un po' Rotto De fare Sta modalità L'assalto L'hai fatto Sì sì L'assalto Sì L'abbiamo fatto insieme L'assalto No no Come no Ah no Tu l'hai fatto da solo Sì O chi l'ho fatto Io bestemmiavo da solo E tu righieri Oh ma allora Mi shottano Mille voci Eh aspego ho messo Ste dieci L'arrivo Eh prendete Prendete Sì sì Prendo queste a destra Ciao Elven Buonasera Le manca una per quindici Lasciateme la prende Eh non ci sono più Mi sa Sì sì Ci ho fatto 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 Mezzure che invadono Eh Uccidiamo prima Merda Sono proprio al centro Guarda là Dove sta? Preso In alto Visto Ah l'avete fatto Sì sì Con mille voci Ah ah Non è male Il simulatore Però il fatto Che ti prende Pure se non ti prende Va bene Il simulatore va bene Il danno che fa Ma Sì tanto dopo Mo che nerfano Il simulatore Ci starà l'arco L'arco buono No ma non devo nerfarlo Cioè Il danno va bene Perfetto il danno Prova a invadere Vediamo un po' Con mille voci Ma vai Vedi Io la non c'ero E nel fatto Ero morto Perché Ma questa è una stessa regina Che fa male uguale Quindi Eh Troppo anno però Eh mille voci Però comunque Spara troppo lento Regà Confront al simulatore Ho provato a fare Uno contro uno Adesso Ma mi ha spaccato Eh ma Una volta che le hai messo È distruttivo Cioè Quello Basta che le ne attacchi Una Ah no Quello si Mi fa malissimo No Non l'ha preso Destra Il simulatore è troppo veloce Destra Destra Che vuol dio Ah eccolo L'ho visto L'ho visto Eh non Non gli armi idonee Perché così Faccio È one shot È one shot Furio Regà Al centro Va pulito un pochino Cambiato armi Arrivo Lasciatemi Lasciatemi Una in vita Fatelo Ucciso Delle granate Che mi dà Le tanti Eh no Non ho piazzato Una particella Ok Ma questi C'hanno quasi Il primordiale Eh sì Noi siamo rimasti Un po' indietro Scusate Ma col mille voci Non mi trovo Scusate Ma dove Spuono i nemici Che non ci sono Ecco Nei passi fondi Gli avversari Hanno il primordiale Se lo uccidono Vincolo Rega vado di là Che c'ho le pesanti No non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Siamo abbastanza indietro Ligolos Ligolos si troppa su Marte Sì 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 Vai 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 ora vai Occhio C'è l'unità Sì Vabbè che non c'avevo Particella Eh no Lo stanno sfondando Regà Chi va a invadere Sono andato Eh non abbiamo Oh non è vero Non mi ha preso Non è vero Lo dietro al muro Vabbè diciamo che era un round Di riscaldamento Apri Apri No ma è la diciottesima partita Che ho perso qua No non perdiamo sta partita Non ti preoccupa Mi sono regalato Stavo un po' a cazzeggia Mi levo subito il mille voci Mettiamoci le armi Che sappiamo usare Come si deve Facciamo il culo Peccato È entrato Troppo tardi Ricordiamoci tipo lì Al centro Eh raga Che c'era un Bordello La tua squadra Se la stacca La squadra avversaria Perché dici la televisione Ma vabbè E che c'era lo scudo No lo scudo E la tv C'è la freccia Regà Lo scudo E la tv Messo lo scudo E c'è la tv Vabbè lascia sto Vabbè ringrazio Che ho lasciato aperto Il quarto Se no ti ho buttato fuori Ho la freccia Le hai fatte a te per su Eh perché qua Stanno tutti un po' sminchiati Però Bella freccia Prendetele tutte Le particelle Regà Non lasciatele Cioè io la questa La faccio pian pianino Non vi preoccupate Vado a mettergliene Un pochino Ultio Ultio Che calo di frame Assurdo Sì Pure a me Vado a mettere In vado Oh le particelle Ah che cortellini Ah no non posso invadere Oh la la Andate a mettere Andate a mettere C'è Cacchio no Non ho pesanti Dov'è Eccolo da me Lo faccio io Dai Era di tal muro Era di tal muro Abbiamo libera Prima qua dentro Era di tal muro Era No quante particelle Avete perso Subito Pure lì Pure una super Regà Se vedete che stanno A 25 Fate super Lo invade subito Uso il destiny Item manager Regà È un software Che potete scaricare No è una pagina web Se le mettete Io invado Se riuscite a mettere Invado al polo Uccido sti tre E arrivo 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 Muliamo regà Veloce Vai Spacca lì da La parola Facciamo gli urlatori Subito Eh non ho le pesanti Ok GG Andiamo Questo qua qua No Fidi colpi Ho fatto uno solo Da da Abbiamo recuperato Abbiamo recuperato Guarda Attenti Non lo vedo Attenti Si affacci solo Chi c'è le pesanti Eh Visto Sta dall'altra parte Sì l'ho visto Anch'io Ci mira È vicino al portale È in alto Granata Granata a caso Lo prenderò No Bene Ha spiegato la freccia Vai puliamo E Puliamo veloce No Come sei morto Non lo so Come sono morto Ho sparato un razzo io Ma non penso Avesse morto Ma dai Non ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Arrivo Vai vai Porta Porta Fa la freccia Subito Certo Vai raga Tirateli tutto Vai Fai il punto Fai il punto Vai raga Ci abbiamo la stessa vita Super Non so perché sono morto Bella Così Buono Che rimonta Bravi Abbiamo rischiato Abbiamo rischiato Sì abbiamo rischiato E beh Sì Comunque Se fai freccia Punto E due coltellini Lo sciogliamo Uno in gramma Eccelso E ne ho dieci Speri in un esotico Sì Speri in un esotico Ah l'esotico Perché esistono gli esotici di Forsaken Oggi mi ha dato un esotico Gambit Mi ha dato l'arco Quello della quest Ah Ah Chiamarezzo Io sto cercando L'esotico Per gli archi Mi abbraccio Per il paciente Con l'altro esotico Con l'altro arco C'è un altro arco esotico Sì Quello non è male Per pulire Unità di caolo Qua si chiama Sì Quello è molto buono Per la polizia In pv Quello è quello che tira tre frecce Contemporaneamente Sì Esatto Sì Io vado a affiazzare un pochino Sì anch'io Sì anch'io Dai Eh perché gli abbiamo fatto Un po' di buff C'era la freccia E c'era Il punto di fusione Del titano Quindi pian pianino Va giù Pian pianino Zoom Guarda probabile che esce lì ai bassi fondi Dall'altra parte della mappa Ah no è accanto a me È accanto a me Dove sono morto io Perfetto Merda sì No lascia Ok vabbè fa niente Ciao Hiroshima Buonasera Oddio Esplosioni Guardiano a terra Regà Al centro regà Eh ma pure qua è un bel casino La mettetele che vado a invadere Porco due Dio No Al centro regà Al centro Arrivo 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 Vai No Attenti Puliamo subito Puliamo subito Veloci Vai mettete 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 Oh perché non si apre No No Dai Ma dove sta Non lo vedo Liscio Piacerebbe Bravi Abbiamo perso Stavamo Abbiamo perso Mamma mia Se facciamo due Invasioni come si deve Probabile ce la facciamo Eh boh Io provo a raccogliere Se c'è Se c'avete Se c'avete Se c'avete i martelli Falli Aspettano che hai fatto il mortificatore Vai prendete le particelle No no li faci per pulire Per prendere le particelle Intendevano Ora Vai vai Apo Vai Apo Uccidili tutti Uccidili tutti Ma perché a noi non ci spawnono i nemici Non capisco Perché Hai lasciato il cavaliere qua E non c'ho manco il popo Bravo A noi non spawnono i nemici Eh Che chiacchio Vai 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 Apidi 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 No merda Muoio qua Arriviamo Vai Apo Continua a ucciderli Teniti la freccia Te vale Apo Si si Non la faccio Quando c'ho pesanti Super C'ho tutto Dalla così Che ancora full vita E ancora qua Bravo Apo Uff Dai raga Che manca poco Ma mancano questi No 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 Eh Ah boh se non c'è niente vado io Nooo Vai al folo Vai al folo Ma dove mi hai suonato Eh no raga scusate Ho sbagliato Vabbè non ce la facciamo lo stesso Peccato Ma vabbè Ma vado un altro azzardo del lancio Ci devo fare con tutti questi azzardi del lancio Partitaccia A me hai amato La casca L'automatico che puoi tanto tu Esatto Io no L'automatico dici Pasquale buonasera Come va Dato di ricognizione Bello Tutto sto casino E fuori lei Fatto solo 2% Ho messo poche Ho messo poche Ho messo poche particelle Cioè hai perso di nuove particelle Ho capito bene Ho messe poche ho detto Ho messo poche Sì quella questa è quella che quando perdi particelle scende Ah sì L'abbastardata Cioè ho messo 62 però ho perso una volta 10 Un'altra volta 6 Quindi 10 10 Ho fatto del mio meglio Ha fatto bene Ma ci siamo fatti fregare Quando vediamo che stiamo lì per Ricordiamoci di pulire subito al centro Andiamo proprio tutti Perché se poi loro invadono Ci trovano tutti in lago Le particelle in mano Che cerchiamo di metterle dentro Le spune Con le mani nella marmellata Papà 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 Azzardo del lancio E polvere stellare Il pompa Sì il pompa Non ce l'ho E le armi di azzardo Invece ce l'ho Altro giro Altro giro Altra corsa signori Venghino Venghino A me le azzardo Mi manca La grove Mi manca lo shader Possibile Io ce l'ho tutte quelle di azzardo Tranne il fiducia Motivo per il quale Sto facendo questa cagata Di resettare il grado Dove che le vedo ragazzi La fiducia Ecco che Ecco Ah no le ho prese tutte L'ho cancellata Mi sa il provere stellare E' un po' d'arte che usa il mio Ikelos Che ho troppato ieri con tante allegrie Ho visto le uccisioni che ho fatto prima con il Ikelos Prima è l'altro che abbiamo vinto Che ho fatto tre uccisioni Una dietro l'altra Beh Non è un po' come al bacio Beh Io dovevo prendere Spettro, Navicella E Astore Lo Spettro è un casino Ma come si prendono? Dovremo Mi devi risettare tre volte What? C'è Franchino C'è Franchino Franchol No Non è quello Franchol Tre volte deve restare lo spettro Due per l'emblema E tre per lo spettro L'emblema di Dartek è perché è molto troppe volte No l'emblema di Dartek è che è un emblema Che è questo Ogni live di averia dicono la stessa cosa Mamma mia E non ti nervosi Rinnovatevi un po' Rinnovatevi Ho visto il video su TD2 In chiudo le presentazioni Mi piace un TD tattico Dove ognuno ha un ruolo Ritengo che la velocità del primo A causa delle super E non uso dei ripati Snaturato il gioco Ma Pascal che vuoi Io penso che sia una cosa talmente Soggettiva la cosa che Cioè posso capire Il tuo punto di vista Che piace Un TD magari un po' più lento E ragionato Ma A me no Vex Oddio Vex C'è un po' due punti Se la settimana prossima Hanno detto che spawnerà più Più Di recente Il corrotto Sì Vuol dire che almeno Sarà un 20% Eh boh Il percentuale non lo so Troppo Secondo me sarà più basso L'ultima settimana sarà Più alta Ma Appunto Secondo me rimane sempre basso Rimane sempre basso Beh io l'ho fatto Nella terza settimana Di corruzione E comunque Non è che era Cioè No però non c'era prima L'hanno messo L'hanno messo Quella settimana là E poi hanno detto Che era la prima volta E poi hanno detto Che adesso D'ora in poi Tutte le settimane Potrà comparire Notando che Ha frequenze Inferiori In base alla Corruzione Della città Esatto L'ultima settimana C'è una terza C'è più probabilità Di spawner Trivella Esatto Esatto Che i miei Mi hanno detto E poi Astronavi asture Non saranno più Dei troppo fissi Oh vedi Quanti nemizi Ha fattuti Mi mancherebbe Solo l'astronava Perché l'astronava Già l'ho presa Questa fa particelle Non sta raccoglie Prendete Prendete Regà Prendete Prendete Sia le pesanti Io Invadi allora Eh ma non c'hanno niente Vai 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 da fastidio No no Ha preso L'ho preso L'aspetta un po' Aspetta un attimo Come fa un po' La super Adesso vado Sì Ho preso le pesanti Oh regà Motti particelle Prendiamole Ah se le mettiamo Da fastidio Sì sì Lo giro Abbiamo fatto Lo sanno pure io Vabbè vai due Ma si dai Sono tutti morti Regà Dannate E c'è qualcuno Ancora con le particelle Vabbè Vabbè vai vai Vado dopo Vado dopo Faccio un altro giro Di particelle Di già Ok Meglio Meglio Non ho la super Troppo veloci Siamo stati Ci sta l'orchetto In mezzo Fatti l'orco La fai Ti becchi l'orco Penso di sì Vabbè Fattolo Ce l'ho Ce l'ho Regà io invado Che ce l'hanno Un bel po' Aspetta Dov'è Sì Trivella Sì Trivella Non lo vedo Eh ma ha fatto Trivella Ma è in mezzo I vex È in mezzo È al centro È al centro adesso Ecco ha fatto La super Verso Trivella Ma eccolo Ok Ok fatto Vabbè Poco male Metto Ah non ce l'ho Ah ne manca una Chi ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Facciamo le magliarde prima Eh sì Sinistra è andata Sta al centro pure Vai Apo Non ci invadono nemmeno Eh sì Opla Guarda che gli manca poco Ah ma ha preso Stavo il simonatore Sulla sinistra A steppe Ci sono stato La prova In faccia Ok Allora c'è un colpo E il pompa Aspetta Gli rifaccio la freccia Magari Fiamo qualche sferetta Ah vedi Dovevo fare i coltellini La lentezza del PG forse è dovuta per rendere usabili sia la classe del cecchino che della sopravvivenza Amo Ghost Recon Future Soldier e vorrei un TD molto simile a quello per quanto riguarda il tattricismo e la diversità dei membri in una squadra Te l'ho detto Pascal Se è tutta una cosa personale A me sinceramente se The Division diventa come Ghost Recon Non sono felice perché altrimenti andrei a giocare al Ghost Recon e non a The Division E quindi se me lo fanno troppo tattico rischia di essere forse una cosa un po' troppo lenta Ho paura che possa perdere l'appeal nel Soprattutto nel PvP Secondo me Però Personale Hai molto sex appeal quando dici appeal Ti piace? Se vuole posso dire ancora meglio Faccio la breccia Faccio la breccia Appeal Uh bella Che palla il Minotauro che scompare Pazzo non ho preso i tre Quattro Cinque Schifo Lascia me la po' Vabbè va bella Fa niente Fa niente Uh lo droppate Lo droppate Lo droppate Vai tranquillo Vedi Vedi Vabbè Fa st'invasione Pepe Vado io Vado io, vado io Vai tu, ok Toglili tutte Ce se prova Eh no, merda, l'hanno messa, regà Ha invaso lui È inutile che vada, aspetta Dov'è? Dove stanno? Stanno verso Trivella Si sta venendo verso il centro Verso nostro spawn L'ha fatto a me Non lo vedo, come sto? Eh, l'ho visto io dietro Preso Visto, visto, ok Invado, regà Eh, vai, Duzi Aspetta, non ti reanima Eh, ma le ha messe Non c'hanno più niente Ma il bersaglio importante l'avete fatto, ciao? No Perché Aspetta, c'è stato un bersaglio importante È inutile, inutile, mi faccio uccidere Così torno subito, non hanno più particelle Sai che fatti uccidere dona al loro particello? Ma lo so, gliene da tre Dal centro dovrebbe stare Perché qua destra non lo vedo Lo vedo, lo vedo, lo vedo Ditemi dove, però Dove sta? Eh, sta verso D'Artec No, dai Verso D'Artec Eh Era vicino all'altro Ragà, qua c'è l'uola importante Ragà, dobbiamo pulire il centro Ah, ecco, l'ho trovato Qua alla base ci sta quello importante Che ci dovrebbe dare un bel po' di Particelle No, regà Puliamo al centro, please Troppa gente, ci sta Aia Ma dai Palle, oh Intanto facciamo dei round Veramente pessimi, regà Pessimi Alla L'altro profilo è qua, regà No, è sparito Che palle Niente, regà, è andata Ok, vabbè Eh, l'abbiamo buttato Sto round L'abbiamo buttato No, adesso si blocca sempre Basta Ogni 5 li blocco Eh Dipende Dipende, dipende Pascal Dipende Dipende, dipende Dipende Ci sono troppi fattori in ballo Per decidere se è meglio uno O meglio l'altro Purtroppo fin quando non avremo in mano Almeno una demo giocabile Che sia Giusta Come una beta Giudizio è molto Rare fatto Diciamo così Su PC Rare fatto Streamerò su PC Ma cosa? Destiny? Ce l'ho su PC Destiny, regà Però C'ho un PG Proprio tipo Al 330 Una cosa del genere Non ho neanche Forsaken Su PC Allora Siamo partiti bene Let's go to Trivella Uh, guarda la gente Faccio la freccia Io ho fatto pure una super un po' così Tanto mo fai le sfere tu Niente Un danno incredibile Io prendo Essere al 600 Equivale ad essere al 100 Identico Madonna Ero full vita Oh sto morendo Madonna Stidra di merda No regà Non perdete le particelle Versaglia 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 importante nell'aria Ragazzi Preso 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 Ah l'avete fatto Ok Meno c'è un po' di particelle Puliamo al centro Tutti quanti insieme A me ne manca una di particella No 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 Ah, fatto in tempo Sto prendendo indietro Io vado a invadere No Non mi faccia riuscidere da lì Adesso Io avevo visto delle pesanti Me ne so immaginare No, questo ha tirato un razzo a caso La volpe a due gode addirittura A caso proprio Eh, se era la volpe forse Non è stato proprio a caso Perca miseria No, uno l'ho deviato Ma il secondo Non l'ho proprio visto Vedete le particelle Dove era? Faccio a pensare che era la volpe a due gode Ah Beh, mia Niente Perso Ok Al centro hanno messo qualcuno Arrivo a pulire Ah, sbrigati, sbrigati Metti, 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 metti Ah Satti, bella? Da dove? Ho fatto la prest È da Da, da, da sud Esatto Bravo Ho fatto la quest Ho fatto la quest Ho fatto la quest Ah, una mano Arrivo Ce l'hai a destra Cos'è sta arpia boss qua? Ce l'ho da per tutto Ce l'ho Ce l'ho da per tutti Ce l'ho da quello da 15 Un'arpia con la vita Qua ci sta Non c'ho la freccia Ma ingancite qualcuno Iscio Vai Eh, Hysterical Lo so bene Sono, sono Straconvinto Che sia così Lo so che su PC È sicuramente Molto, molto più godibile La situazione Ne sono consapevole Non ho, non ho freccia Regà Ah Vabbè Quando odio sti goblin Oh, muoio Ma mia Super one shot Non ho neanche il pompa io Annaccia Secondo mappa È sopra È sopra Preso Ah, l'hai preso tu Ok C'è il cecchino caldo Molto caldo Una maliarda è andata L'altra la faccio Fatta Ok, vai su di lui Bravo C'è il pesadio a terra Vado? Sì, sì, vai vai Sopra È morto, è morto, è morto L'ho ucciso No, no, non è morto No, il boss Sì, sì, lo ucciso L'ho ucciso No, qualcuno l'ha ucciso Qualcuno l'ha ucciso qualcun altro Eh, no, ma il boss si è curato Il boss si è curato Eh, ha chiuso a me L'ho uccidevo lui Ma gli mancava un'antichia proprio No, ragazzi No, ma ucciso Maledetto Bendicato State calmi Sì, assolutamente, sì Buonasera Fregni Ciao Riu, grande Mi pare che la volpe Abbia l'agganciamento automatico Sì, è vero Lo fermo Tutte e due colpi Tutte e due, sì È bello ignorante Dunque, la prossima step mi chiede di uccidere Guardiani avversari e uccisioni da invasore Fai in modo che un invasore alleato sconfigga tutti e quattro gli avversari In una singola invasione per tre volte E fa full team Oppure sconfiggi tu quattro avversari come invasore Quindi devo invadere io Andiamo a fare il full team Coltellini Vision Senti Quando stanno a fare la fase di danno al boss Dici, li trovo tutti là ammassati Sì, li trovo tutti lì La fa facilissimo Allora, sale piano è l'ultimo grado Comunque Ritrando al discorso di Hysterical Che giustamente fa un'ottima osservazione L'idea di streamare su PC c'è sempre stata Il fatto è che Come puoi vedere Alla fine I compagni con i quali giochi sono sempre gli stessi Magari da anni addirittura E quindi Riuscire a cambiare piattaforma Sì Giustamente Per una visione un po' più Godibili Ha sicuramente il suo perché Però è anche vero che dall'altra parte Magari poi ecco Ti perdi alcune cose che con Con i compagni di squadra Che conosci già da un po' È Difficile Da Da riformare Ecco diciamo così Però C'è tempo C'è tempo C'è tempo Perché quando hai fatto le competitive senza di noi Fatte con voi Quando è che sei sceso scusa La stessa sera in cui sono salito Ah vabbè mammo le facciamo Quanto stai? Mila e nove? Mila e nove sì Quella sera persi È la sera che incontrammo i ragazzi Frenchi Ma l'hai fatto intanto Il resto della quest no? No 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 Mi pacca solo le uccisioni In testa Il cannone portatile Ma ti ripeto Quelle le faccio dopo Ok 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 Vediamo un po' cosa abbiamo Cabal Infami Infami Mi danno fastidio Con quelli scudi Sì Oh mettetela una X Nel nick Regà XXX XXX NXX Penso di sì Per l'estetica della stream Luca In più questa mappa Non mi piace Cado sì Però gli infami Mi piace una cosa Quando gli esplode La testa Divertente Sai che forse Se devo invadere Mi devo mettere Un'altra arma Dai con l'ululato E il pompa No metterei più un impulsi O un cecchino Sulla primaria Il cecchino Sta bominio qua Hanno piazzato La regà Qualcosa Hanno messo Un blocker piccolo Vai vengo a metterne 10 No ne ho 9 Le furie con 10 Particelle lassù Scompaiono Merda Bene metto 9 Sti cavoli Amo io No non è vero Vai Andrea Fatta questa invasione Ecco che Col pompa Li push Provaci 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 Che ti importa Magari ti dice bene Aspetta che Questo Non mi ha visto Ma invece si Ah Mi fanno Mi fanno Invece no Faccio tutti col pompa Eh non fatti due Eh mi devo mettere un Un impulsi Se voglio Fa sto lavoro da lontano Vabbè Troppi sopra Sto arrivando su Ah ma Già avete fatto Stavo aspettando il cerchio Ma in realtà Non c'era ancora Il portale attivo Giardino mi sa Sì Mi sto a rio verso Chiudo No non è giardino No A giardino ci sto io Regà È sotto No sta qua Ecco Stavo Ce l'avevo otto Vabbè ho capito Ma che fame Che sì Che fame Che danno Che cacchio mi è arrivata Una sveglia Dalla sinistra Che cacchio mi ha sparato Un po' mini Ma andrei Ci stanno le pesanti Se voi mi invade Niente Le ho prese Ce l'ho Ce l'ho Aspetta Vado vado Ok Quando voi mi invade Me ne metto 10 Ma Disavventura cosa? Uuu Così che esplodono Uno Due Sì Vabbè andiamo No non mi salta Ah perché la volpe La volpe a due gode Inibisce Vè? Sì Eh cazzo Sopprime Sopprime Ah non ho fatto i tre Ne ho fatto i tre Vabbè Facciamo Andiamo lo one shot Se loro arrivano Oh What? No no vai Giochiamo normale Poi le kill le farò Tranquillamente Magliarda di testa Andata Aspetta Aspetta un attimo Farò arrivare A meno Per tre Per fare un po' di pulizia In giro Sì sì Voliamo Da solo Ma secondo me Puoi andare Dai che lo spacchiamo Guarda attenzione Adesso Dove sta? Non ne ho idea Boh Visto Sopra No ho preso anche me No Occhio che ha fatto la super 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 Pazzo ha fatto la super In faccia C'era la super Andrei? No L'ho appena fatta sul boss Ok non c'è più Se loro invocano Ho cinque colpi di pompa Dai su Te li fai tutti quanti vicini Vicini Dai arrivo adesso Non mi vado No no faccio il boss Dai fammi il boss Vinciamo la partita Poi vediamo Ah quindi la seconda percentuale O ne faccio quattro io Oppure uno del team Fa tre volte full team Ok Faccio la freccia subito Regano Gli ha sparate Guarda Te dirò di Secondo me è conviene La fare al secondo giro Perché qua sono tutti dispersi Al giardino Vai fammi un attimo Vedere come stanno messi Ah la sopra Guarda che belli questi Pure l'orco qua Ma stai con le bighe? Posso ce l'ho già Eh sì Buono Passo a lasciarle nei cinque Ah sì Mandiamo di tutto Ecco L'ho fatto loro C'è l'orco dietro Si è incattivito Queste trappole Che palle Arrivano gli urpi qua Aia C'è un abominio A sinistra Vabbè Guarda quante parte Ce l'hanno messo queste Uh Arrivo Arrivo E' andato Apo Ah Apo malefico Apo Eh ma capi quando ne venevano Vabbè falli Uccidi Uccidi di tutti No è difficile Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho resante Tra poco possiamo Invadere di nuovo C'hanno Tutto c'hanno Questi qua Aspettami devo passare Eccoli Dov'è Eccolo è al centro E' al centro E si è proprio al centro Oh rega dobbiamo pulire Dobbiamo pulire Esci fuori Apaci fuori Esci fuori Eh poi io non c'hanno nulla Mamma mia rega Al centro che c'è Dobbiamo pulire assolutamente Ho preso Ho trovato Le pesante E te lo vai Andiamo a scappare Un po' di pulizia così Ok Mazza ci hanno mandato Un bot di roba E allora possono Rinvadere di nuovo Mettiamo quelle Le particelle Che ci abbiamo Mi servono Munizioni per il cecchino No Alla giardino Preso Bella Vuole pesanti Andre vai al volo Se devi andare Sti maledetti Perché ne vedo Perché ne vedo tre Dai l'ultimo Full team Finiamo questo Uccidiamo Si ha già Un bel per uno Occhio all'invasione Aspetta che ci stanno Sti goblin Ciao Vai è per tre È per tre È per tre Apo Vai bule Vai Apo Bella Buttare la Di lang Sulla stream Non l'ho vista Però sì Mi fido Scusate Avevo la La cosa di team Aperta È arrivato Ucarig Cos'è sto casino Apo Ti muti Per piacere Sei mutato Ho preso un lanciarazzi Mi sta dando Solo lanciarazzi 600 Quindi adesso Che ti manca Una volta fatta Devo fare solo Le uccisioni Ogni tanto Quanto stai? 9 di 25 Ah infatti Sei la prima Che genio Vabbè Non fate No Vabbè Dai Queste In due Tre partite Si fa Ma mi sa Che sto di squadra Quella Chiunque uccide Te la conta Vediamo E non so Io quante ne ho fatte Ne ho fatte 4 Beh Sicuramente 9 Non ne ho fatte Configgi 25 Guardiani Avversari In azzardo Però come Invasore Dice Senti 9 Forse anche Quella prima Mi ha contato Non lo so Scusa Vedi i risultati Precedenti Nemici sconfitti 9 Sì No Allora Conta le 2 Te ne ho fatti 9 Ah se fiamo Stricte 5 Se sale facile Ah io ho preso Sì sì No no Con la stricca Se sale Se sale Io so 13.810 Ho superato I 14.000 adesso 13.600 Forza Andate a fare Riven Bombino 2 per Riven 2 per Riven Ma Cod è già uscito Scusate Io sono un po' Farito al mondo Rispetto a cod E' uscito Oggi Dovrebbe essere uscito Ah oggi Ok Mi sembra Chiedevo Chiedevo Non so se ci stavo HSS anticipato Per chi l'ha preordinato Tipo L'ultimate edition Sta roba qua Ma Ho smesso di seguire Cod tanto tempo fa Che palle Più ti guardo in orbita Più voglio la modalità Scontro in astronavi Sì in effetti L'ho detto oggi Sai ci pensavo oggi Dovrebbe Bungie dovrebbe inventarsi qualcosa Per i caricamenti Un minigioco Che cacchio ne so Non so Asteroid Asteroid Eh Tipo che la navicella appunto Si trasforma Si mette tipo In Un pianta E C'è sta tipo I giochini Quelli in 2D Vi ricordate No eh Vabbè E mi date il cazzo No come no eh Asteroid Con lo video ti è uscito oggi Ah ok ok No perché vedevo su 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 Twitch che in realtà Non tanti lo stanno streamando Non è È passato un po' in sordina Sto cod o pare a me Ma Ah poi lei sta streamando What the fuck Yeppa La vada moda Da stamattina È da stamattina che lei sta streamando Non mi dica Non mi dica Si Tento Tento la fama LOL Tento la fama LOL Tento la fame Quella fama Ah quello è sicuro Oh ma che cacchio è A mezzanotte si sblocca in versione digitale Allora perché ci stanno già giocando Qualcuno ha rotto il day one Vabbè come sempre Qualcuno ce l'ha sempre Figurati se non rompono il day one Assassin's Creed addirittura Tre giorni prima che usciva Già streamavano Vabbè però Per chi aveva prenotato E chi l'aveva compagno digitale Volevo dire vendere lui dal 2 Mi sento dal 1 No io ce l'ho preso Io ho preso l'ultimate Cioè ho giocato tre giorni prima Ma ci stava chi Tre giorni prima Del Coraggio streamava Da quando? Quindi sei giorni prima l'uscita Io ho iniziato a giocare Quando è? Da venerdì scorso mi sembra Comunque dal primo giorno che era disponibile Io Mi ricordo se è il 2 o il 3 Ah ok Vado io ma non ho le vese avanti Fino di settembre Già ce l'avevo Vado questo che è nel mezzo al casino E' scappato E' scappato E' scappato Incredibile Guarda Sta scappando Non ci credo Non ci credo Guarda che cosa sta facendo Incredibile regà Incredibile Regà penso che ha fatto Tutto il giro della mappa Tutto il giro E non sono riuscito ad ucciderlo Oh cos'è sto casino? Ma che palle stasera Portale pronto Ci riprovo Almeno mi ha fatto rientrare Abbiamo un bel Orchezza Schermo nero Schermo nero Mezz'ora di schermo nero E' qua rientro Manca uno Nooo 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 Niente L'ultimo L'ultimo Si è salvato per poco Vabbè Ma ha fatto rientrare senza munizioni Bello Ah ok Ho capito Ho capito Penso sia passato in sordina Perché identica a fortnite Si per viscio Che quest'ultima E' più popolare Nooo Nooo Identica a fortnite Nooo C'è la battle royale Ma non è identica a fortnite Hanno messo la battle royale a Call of Duty Eh si eh Non lo sapevi Ah si No Non lo sapevi In fondo raga Era già uscita dalla beta Non so L'avano fatta vedere in qualche cosa Mi ricordo In fondo raga Potete dare un po' di cose Un po' meglio Che vuoi dire in fondo In fondo a chi Mi spinge A me la battle royale Non mi ha mai tirato Ragazzi C'è quell'orco là in mezzo Che da un po' fastidio Ma se mi dite dov'è lui E' meglio no Era al centro Era al centro Era che stava sotto Era un uomo Non usciva Ma raga Mettete queste quattro particelle Usci diamo sti stronzi Merda Perché tiro sempre i coltellini Non ce l'hai la freccia? Si si ce l'ho Ah ok Aspetta un attimo Facciamo prima lui Facciamo prima lui raga Penso No Sinistra In spiaggia non c'è No È al centro È al centro Preso No dai L'avevo preso col cecchino Hai fatto la freccia? Si 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 ma ce l'ho ancora Vai rifalla Di nuovo Destra Spiagge Visto Ah mi ha fatto È quasi andato Amore mio Ciao grico In vado In vado raga A dove siamo col per? Siamo a per 2 Aspetta che faccio la maliarda Non appena torna d'arte Lo sciogliamo Guarda come scappano 4 No No Vabbè Dai dai Fai 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 Io l'ultimo code che ho giocato No io ho preso il world war tour raga World war tour l'ho preso per così per sfizio C'è stava Però ecco la La mia Tra virgolette Carriera negli sports È finita con Code 4 In modern warfare Quello è l'ultimo code che ho giocato su pc Seriamente Capisco perché mi ha buttato fuori due volte Gli altri Sono sempre passati in sordina Un po' per noia Un po' per Anche Sono sempre uguali Così a caso No a casa Ah scus Puro pop Puro pop Fai un headshot su Bella drag top Non è finito sto ride Drags No Nice Bella freccia Eh me l'avete uccisi un po' prima Eri competitive player Caro cricco Non mi conosci abbastanza C'è un video C'è un mio video Sulla home page Della mia pagina di Di youtube Dove parlo di Un po' di me Se vai 5 minuti E vuoi andartelo a guardare Caro cricco Così capisci da dove vengo Perché mi chiamo giorno Perché ho fatto tante cose Non stavi a far ride oggi Drag Quando sei entrato No mi sto scorsendo Facendo delle competitive Perdonami Mi sono confuso Pensavo di averle messe Invece no Ah chi è che ci si è buttato Dartek Maledetto Mi prenoto per la prossima Invasione Io sto un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Sto io con te Io sto dietro di te E sto morendo Ti può interessare Ma fai Stai dietro di me Se io sto da solo Non è vero Nooo Guardi C'è uno particello Sì Mannaggia Era morto Rischiato però Lo sentivo Che stavo rischiando E dalle 2 Che non sto usando internet Per scaricare code Mi mancano ancora 12 giga di aggiornamento Mamma mia Vado con gli impulsi Eh vabbè Non ho ucciso uno Ho chiesto troppo Mannaggia Aspetta che qua C'è della lore Assolutamente Sì Ah non è ancora Allora drag Ho immaginato Tutto Perdonami Non so perché C'avevo C'avevo l'immagine Di te che facevi Il raid Il mio declino Vattela vedere Cricco Vattela vedere Vattela vedere Poi torna E dimmi Che ne pensi Where is Sì spiaggia L'ho visto Spiaggia 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 I coltelli Sempre nel Posto sbagliato Vabbè Ma pesanti No Ho dato pure Le pesanti Grazie Ma le devo mettere Le particelle Mancano Due particelle Ragazzi Fatto 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 Diami giorno Perché la pelata Ricorda l'alba È al centro Mi fai strozzare Con queste cazzate No Mi sei messa La maledia davanti L'avevo preso in testa Mannaggia Morto Tra l'altro È anche passata in sordina Perché Omashi Se avessi sentito questa Sarebbe venuta da ride Frecciali Omashi Frecciali Facci sognare Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Ah male C'è qualche mob di qua Eh lo so L'avevo fatta Quando c'erano Tipo tre Corki al centro Chi ha Where is Lo vedete No È in collina Preso Capisco perché Il mio pompa Non l'ha preso Eh il mio secchino Non l'ha preso L'ho preso Proprio in testa Passata C'è un ricordino Il prime l'ho già usato KJD L'hai usato male Non lo so scherzare Il primordiale è un bel per tre Direi che è il momento Regà Dove sta? Eh spiagge 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 Visto Oh Vai Mi sparano questi stronzi Dal lato Vai Apo Bene così Bene così Bene così Come li sciogliamo Come li sciogliamo Che bella serata Per fare l'EB Si potrebbe quasi parlare Di grafiche a 3D No Chiedimi dai Chiedimi qualcosa Bernal Vai tranquillo Se c'è qualche domanda particolare Chiedimi Un salutino veloce Ciao Oliva Guardate il montaggio del pc Con ombra Oggi ombra è andata a casa di Oliva A montare il pc Regà Non me ne frega niente Però Secondo me hanno anche fatto l'amore Anche secondo me Perché sono sempre lì Un po' aggressivi No Però alla fine Secondo me Se vogliono Secondo me hanno fatto l'amore Che poi dall'altro Ci sono stato già a casa di Oliva Perché da lui ho preso il monitor E quindi poi Con te ci ha provato Con me ci ha provato Si Però ero con 1 point E E quindi C'era un po' di disagio Non so 3 sound 3 sound Stiamo facendo gambit Così faccio il cattiva condotta Ci sono quasi Poi andiamo a fare delle competitive Così Omashi si prende il No ma non lo so mica Se io la faccio a fare E se sei la competitive Grazie che i JD Stavo scherzando Naturalmente Ci mancherebbe Ognuno il prime Lo da a chi vuole Omashi tu a chi l'hai dato il tuo prime Dimmi A GX A GX Vabbè GX Tanta roba si Il mio primissimo prime Invece su Twitch Quando l'ho fatto Anni fa Quando era non lo so L'ho dato a Godalion Pensa Così a buffo Mentre faceva Mentre faceva Che poteva fa Mi ricordo Altri tempi Omashi uscirà Prima o poi Un tuo sonetto O hai appeso Il tuo estro Al chiodo Beh in effetti Si rega No 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 Ce stanno Ce stanno Ma voglia Io il primo prime Lo do da giorno Grazie Apo È vero La scena fu questa Cavolo Ho fatto il prime A 9 euro E si è aggiornato A 33 euro E mo Ma Degli una donna La follow Alla giorno In realtà ricordo Quel pomeriggio Ho detto a quel poraccio Il giorno Allora C'è leggenda Che mi chiede Per droppare il fiducia In azzardo Cosa devo fare Un drop random O devo fare qualcosa Omashi risponderà A questa domanda Di avere fiducia E basta Allora È un drop random Io penso anche Di averlo cancellato In tempi non sospetti Però Se resetti Il grado leggenda Te lo dà Assicurato Mamma mia Potersi fare lo streamer Intanto Revo Si abbona Sette mesi Sei una vecchia Una vecchia fiamma Di Evria Io ti ringrazio Ma i mod Sei già della famiglia Quindi è utile Che te sta Spiega tutto Non ha linkato Non ha linkato Eh vabbè Dovevi fare ride Omashi Streama dai Apriti almeno Un canale youtube Dove metti le cazzate Io ce l'ho Montare Installare Sistema E giochi Sfruttando La mia fibra 200 Ho visto Chi ombra Dragtop Ti farà Quadagnare Dici Il fiducia Lo sai però che dovresti prendere le taglie se devi prendere il fiducia Perché le taglie droppano leggendario Sì sì Le prendo tutte quelle che droppano Non l'ho mai data Ok Perché a fine partita Sono pochissime le volte che droppa qualcosa Sai perché ti dico che forse me l'ha dato Perché tra le collezioni io lo trovo Ah allora sì Però forse l'ho cancellato quando ancora non sapevo Forse Caruccio Guarda ti dirò che A volte Spara Cioè almeno il mio feeling personale È migliore con fiducia che con l'ululato Eh ho capito Stanno sparando delle particelle lassù L'ululato tritappa Eh ma pure fiducia No fiducia a 4 No non tritappa ma da Tanto fastidio quando ti sparano Soprattutto se c'è proiettili esplosivi Da molto fastidio Nell'altra squadra sta succedendo un casino mi sa Nell'altra squadra c'è qualcosa che non va mi sa Vado Bell'idea Chissà che fanno Vado a vedere raga Allora ce n'è uno allo spawn No non è vero Qui ce n'è qualcuno ferma allo spawn 10 secondi Vieni qua tu da 5 Vieni qua tu da 5 Preso Il nuovo predator al cinema Sai che è un botto che non vado al cinema raga Un botto proprio Il portale è aperto Vai a guardarli negli occhi Oh si si Ci rivado Guarda che prendo sto cattiva condotta così In mezza serata A me il cattiva condotta mi è piaciuto molto in pvp Ho usato quello per fare uccisioni precise infatti Ok diciamo che ho cannato Dai mi ti begga rega Mi ti begga Ma se siete a 5 Nella valutazione di azzardo Omasci ha scritto cattiva condotta Non l'ho capita Per quella non l'ho letta Non l'ho capito Non l'ho capito Ha scritto Omasci nella valutazione di azzardo Di Omasci hanno scritto cattiva condotta Era un doppio senso Cattiva condotta Valuta Valutazione Pagelle Così così Oh ma da quando in questi capitani c'è un signore dei lupi Da sempre Ah hanno troppato Hanno preso Forsaken No come Xur Spiagge 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 rega Ho fatto la super Vai one shot One shot Fuck Vabbè vabbè Fa niente Fa niente Dai Di tre il muro Si ne ho presi due Drag Ah è vero Non so perché Da cellulare Quelli in evidenza Non vengono messi Non capisco Ho fatto una maliarda Scappo Lo vedo Ok Ah proprio Non mi puoi andare Non ho il punto Non ho il punto Aspetta un po' di Ok E allora A questo punto invado se si apre Ma mi prendeste pesanti Se sponano Invadono loro Vai Uh Ah mi ha fatto malissimo Spiagge Si penso di si 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 lo vedo Io dovrei andare a prendere Sentinel Simulatore Dove stavano Lo vedo Eh Adesso Stai accendo È dietro la struttura centrale Sta nascosto Si mi ha preso anche a me Al tavo di là Sponatemi Aspetta 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 Che due coglioni Una spuono massi Ci sono Vai vai Uno E Allì Brutale Sì ma già si sapeva Vernal Ultima parola Rompighiaccio Mi sembra che anche un'altra arma Dei Destiny 1 Metteranno Ce n'è qualcun'altra Che vuole Beh dovrebbe tornare Il Thunderlord pure Il che? L'ultima parola Eh l'ultima parola Il signore Il metrici pesante Come si chiamano Il signore del tuono Il signore del tuono Complimenti per i 18.000 Avevano 18.000 su YouTube Cricco Ma penso che non lo sapevo Veramente 18.000 18.000 Rilly Non lo so Aspetta Vada a vedere Vada a vedere Vada a vedere Vergogna Eh rega Ma mica sto sempre 18.038 Adesso devi fare Un giveaway Un giveaway 18.000 baci Un 18.000 baci Bella giorno Best player di 2 Ciao mic Esagerato C'è gente molto più forte di me Guardo Mashi Mashi best player PVE Barra PVP Ever Raita Bungie Please fixo Mashi Nerfo Mashi Uo le pesanti E' come se invado E' come Aspetta No invaderò Siamo arrivati nemmeno a 15 Invaderò Ma va a giocare Devi fare una volta sola Il full team Eh ma mi mancano 2-3 kill Per fare L'altra parte Devo fare Due parti No Ma se mi esce Il primordiale Qua Non mi fa schifo Non mi avrebbe schifo Ah perché Te di Ancora fa il boss Eh si Io sono arrivato a leggenda Senza ave l'ho mai visto Eh dovevi farmarlo Qua la settimana Non è male Cosa devo fare Scusa No dicevo che dovevi farla Qua la settimana Quando l'abbiamo fatto Tutti Vabbè è da martedì 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 ho becchi Becco martedì Sì sì Chi è che mi mette Tre particelle Che voglio invadere Io Se mi dite dove sta questo Ok al centro Dov'è Sentinel Vieni qua Sentinel Bang Mazza questa persona Agnata in faccia Si è meritato le motte Regà Nooo Un altro po' Lo riuscitevo Eh ho capito Mi fa le motte Mi fa le motte Mi ti bagga Ma che ti baghi In azzardo Poi ti bagga in azzardo Mazzaccia Mi hai ricambiato il favore Voi a finire Che c'ha dieci anni Quei poveretto Vabbè Vai Ho fatto st'invasione Ciao fregna Bella Ha inizi a pensare A cosa fare Per i 20k Che se sto passo Arriviamo in Due giorni Ma che Sai quanto c'ho messo Arrivato a 18 Crico Andre il portale È tutto tuo Arrivo Prima che ti se lo rubavo Apo Fermati No 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 Rubo Nello Andando qua Vado anche con le particelle Non mi importa di niente Dove è Sentinel Aspetta Ehi Sentinel Mi senti amico Liscio Ma ma mi faccio la super Ah portate raga No Mi ha ucciso Ma fa Guarda impazzito Mi sta ti baggando Come non mai Ma ho ucciso Con il razzo Maledetto Eh vabbè Ma la sono meritata Sta a fare tutto il giro A sinistra E viene proprio qua Eh ho lisciato Vabbè raga Dov'è? A sinistra Mi hai detto Vado con uno mash A sinistra Si sta Vieni proprio Listo io Listo io Listo io L'ha pushato vale Io ho puntato la maliarda Però vabbè E non ho una cippa Ah vabbè Bella Aia Ma dai Non spingere me Non lo vedo Piagge Piagge Distorsione nuova Ah mi insegue Va così veloce È perché si sta teletrasportando Non ha presa No non ha preso Non mi prende Non mi prende Non mi prende Resisti per 7 secondi Bang Bella Questa prende Pronto? Si vai Quando vuoi vai No Ho messo l'occo davanti No no L'hai preso L'hai preso L'hai preso L'hai preso L'hai preso Devo rimpicciolire L'hitbox di sto cazzo Di simulatore Sparimenti Eh si ragazzi Simulatore sgravato Ma perché non è un Mic Non è un glitch 900 punti È È un modo di farmare Quindi può funzionare Come non può funzionare Una settimana fa Stavamo a 16 No Ma perché mi controlli Cricco Cricco mi controlli Stritti su YouTube Ti stalker Allora ti cogli Una pizzetta Quando la offri Scusa Chi la dove offri Una pizzetta A tutti A tutti 18 mila Non è a Milano Però per favore Una pizzetta An euro Sono 18 mila Vabbè Apo Però hai detto Però hai detto Che quella pizza Che abbiamo mangiato Non era così male No no Ma non per la pizza 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 Senti come sta Ha preso un po' di freddo Apo a Milano Si sente raga È una settimana Che sta male No no Mi hanno rotto tu costole O maschi Si è rotto tu costole E Tu c'hai una mascella Lussata Madonna No Fortunatamente no Però Eden Mi ha dato una pizza Qua raga Forte Forte Ho visto la tua faccia Era impagabile Beh perché sono rimasto Un po' spiazzato Non sapevo che fa Oh Ma mi ha dato una pizza Sto coglione Ma poi forte Oh Ciao Eden Maledetto Oggi avevo in squadra Su azzardo Sandro Del tuo clan Ah Zando Sandro In squadra Equivale a vittoria sicura Guardalo qua Che sta facendo Zando Sandro È in orbita Ma Eden in realtà Voleva darti una carezza Andrea Stando che con la sua mole Non si rende conto E Effettivamente Ebbene Ciao Pascal Buonanotte Ciao Black No Draghi Che poco prima che ci incontrassimo A Milano Eden Ha abbracciato Affettuosamente Omashi Esatto E La tua mole L'ha preso Tirandolo su E diciamo che Omashi Ha subito Del Del Sono crinate Che c'hai? Ma crinate Raga Ha crinato Gli ha crinato Tu costri Raga I 20 giorni di riposo Insomma Tutta roba Vertificata Non è che Non parliamo a babbara Farei danni a Eden L'avvocato Lo chiama Lo chiama L'avvocato mio E Eden È grosso Crico Eden Così È gigante È un armadio Sì Ha 8 ante Io direi Devo fare una kill Poi ho fatto Cattiva condotta A me Il canal Chi da asciugare Il canal Eh beh Ma perché A tutti è rimasta impressa Con la pubblicità Pinguino De Longhi In quegli anni Lì Spingeva Come degli addannati Su Eh beh Sì Era la novitata Quanti anni ha? Direi di metterla Qualche cosa Eden Quanti anni ha? 40 No 38 Mi pare 38 No ma fatti 39 Ma fatti 39 Oddio mi stanno uccendo Ma davvero Lasciatemene una Lasciatemene una Ok No Sono caro Con 15 particelle Mettila 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 Vado Ne basta una Qui sono tutti Ah eccoli Oh ciriola Ho fatto la quest Non mi interessa Mi ha laggato tutto Mi ha laggato Ma fa niente Nucleo bellico Ma che mi chiede Ti fa? Parla con il ramingo Oh yeah baby Hai finito Sono molto contento Avevo questa cosa A metà da fare Minciamo sta partita Minciamo sta partita Invece ne avevo una Nella fossa Posso giocare Da qua sopra Tu puoi fare tutto Quello che vuoi In alto Adesso Arriva verso il centro L'ho perso Perché non lo vedo? È là sotto Ah ok Lo vedo Lo vedo Ah vado Se non era per Quello orco Che stava Alla destra Eh rega Io ho un problema Cioè c'è molta gente Qui E sono preso Sono trappola Di un cacchio Di coso Eh infatti muoio Vabbè Nella live Al ristorante Era l'ultimo A destra Quello con la maglietta mia L'unico che c'eva La mia maglietta Non 28 38 38 38 Sono invade loro Attenzione Non lo uccidete al centro Eh sorry Un po' tardi Sono caduto Bella Fanculo Vai che ci hanno un po' recuperato No Ci hanno pure recuperato Sì Aia Aia Vasore Dove Dove No Io penso sulla sinistra No Non lo vedo Destra Andato Per là Andiamo andiamo Vai So full Poi prende Mettete le particelle Raga Mettete le particelle Ah ce l'ho io Scusate 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 Vasore E' a sinistra 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 Preso 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 Invado E' un bullo Vai Fai il punto Dobbiamo far Sì 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 Vai 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 Guarda come scappano Mamma mia E tu scappi Bella Prendo delle sferette Ah è vero Ah Vai a capire Non è male neanche in pvp Sì sì raga Non è male neanche in pvp C'è di meglio forse Eh però Eh vabbè raga ma Immagina che c'era il punto di fusione I coltellini E E la super Poi gli ho sparato due tre colpi sui piedi Forse faccio una freccia Vediamo un attimo Eh raga ma quando si è in team E' giusto che uno si si organizzi A farlo così il boss Perché altrimenti Rischiate di perdere C'è non fa senso Almeno fate le serie Portate a casa Un po' di punti Ecco acqua passata Per esempio Sulla carta È migliore Devo capire Se è in pvp Ciao pincio In punta di piedi Sei entrato oggi Gramma eccelso Yes baby Ah i jingle della Rai Vado a pulire al centro Che c'è qualcuno Vengo con te Ti do una mano Ah non t'ho visto No 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 Non c'è solo una talange Sorry Vabbè Ah che bello Dare La coltellata agli esplosivi Quando sei entrato Che non ti ho risposto Veramente Ah oh la eccolo la Perdonami Perdonami Mi era sfuggito Piazzamo che così Invadirete C'è quello che c'è la nomor po' C'è se ho spuonato addosso a questo che mi ha fatto la super Diretto proprio Che stranciata Ci hanno invaso Bravo Bravo Non ho preso Non ho preso neanche una particella A sto giro Raga Gautizi Buonasera Eh no perché sto uccidendo Ma poi le prendete voi Quindi vabbè uguale Oh E dammo questa coltellata Adesso Vedete le tante se volete Andiamo andiamo Ciriola Come hai fatto a prendere un nick così infacile Ciriola Raga Lascio la freccia e invado Che pro Che pro signori Che pro Guarda dove ho sparato Ma come cacchio Dov'è No non lo so Io ho Mi ha ucciso la maliarda Mi ha ucciso la maliarda Ho perso l'aggancio a un certo punto Comunque ho trovato la mia arma secondaria in azzardo C'è chi in occhi chiusi proprio Non vedo il primordiale Visto Allora non è sopra Quindi dall'altra parte È destra È morto È morto Cosa è successo Ah ecco Ho sentito una super infatti Sì la sua È morto mentre tirava bomba nova Poverino Uh le pesanti Ah vu Quando vuoi No M'ha buttato giù Eh l'hai preso però L'hai preso L'hai preso L'hai preso Oh mi ha buttato giù anche a me Finito Finito L'ho ucciso Un eccesso Il rompighiaccio non è ancora chiaro come prenderlo Ciccio Ma non sarà durante l'evento Probabilmente sarà durante il prossimo DLC Uh guarda quanto manca A me me mancano 610 punti A me 300 No 200 In realtà me me mancano Scusa da quant'è A quant'è che è resetto 15.000 15.000 A me mancano 500 punti Praticamente Eh siamo tutti in larga Ma mi posso allontanare Per prendere il maleficence Il maleficence Il maleficence Torno subito Allora facciamo pausa amministratrice Raga poi continuiamo Grazie Apo ci lascia a porta a porta Come mi rubite rispondere E che raga non posso leggere tutto Vabbè fate Autogestitevi Fate fate In un video red Fate 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 ignorante No il cross platform Su destiny Raga penso che sia Abbastanza lontano Per non dire impossibile Scusate me lo dà prodigiato Il fiducia dopo tutto sto casino Pensa se non te lo dà Ovviamente Pensa se non me lo dà Pensa se me lo dà con Non so Triplo colpo E Undina auto ricaricante In teoria In teoria Dalla regia mi avevano detto Dovrebbe avere i perk fissi Quello Che prendi a grado leggenda No Quali No no non lo so chiedo Da ignorante chiedo Ma Apo dopo porta a porta Sei mutato o sbaglio Sì Apo facci senti Bruno Vespa Vediamo come inizia Buonasera Allora Benvenuti Apo Che era già va bene Già va bene Già va bene Già va bene Grande pack Oggi mi è partita la scheda audio E non posso giocare E gioca senza audio Lamento Eh lo so è brutto Ma lo sai che ogni tanto mi trovo malissimo Anch'io a giocare senza audio Cioè tipo vado a fare una partita in pvp Entro in crugiolo Senza audio Non riesco Oddio non so che fare Vado a prendere il Celso O vado a dar Ramingo Celso Ramingo Celso Ramingo Celso Ramingo Ramingo Vabbè Farai tutte e due Imitazione Guarda quanto ragga Vai che la proviamo subito raga Certo togliere il cattiva condotta Vuol dire che ti devi mettere un lancio a raggi E ciò non è buono Che usate voi su dei pesanti Se usate il cattiva condotta Ma c'è la E' una cosa che abbiamo costruito insieme Ti va se la chiamiamo cattiva Certo armi più grandi Ma questa è morte allo stato bellico puro Degenerazione totale Ed è la chiave per liberarmi di l'upe Il punto è Nessuno è cinque pistolero Ando da Uthorn A ritirare la mia taglia E' ora che comincio un secondo pg E olè Secondo pg di Omash Yeee Sì so' ria dal 600 Però tutte le quest ce lo attivo con questo Namastiri picca della tigre inutili Sì Uthorn Imparo a non darmi un'arma Ti prego Grazie ce l'avevo già Ok Let's try it Buonasera Ciao buonasera Quando ci siete io rivado Ditemi voi Esteticamente è fighissima Esteticamente è fighissima Però ecco diciamo che forse non è il top Che purtroppo il suo perk Dice che servono cinque colpi per far esplodere una roba Una Una carica Cinque colpi su un'arma primaria Che mi fai Vabbè per me poi andavo C'è Bruno Vespa Per chi interessa L'arma di oro Da modifica impatto E radar Ah ne compro Li compro Li compro Li compro Io vorrei Eh sì perché Io Lo ricordo perché sapevo già che si erano dimenticati Bravo eh Io mi scordo Eh ma il radar Per alcune armi può essere buono Anche se riempare immediatamente è un po' inutile Ma io una la prendo Senti Cricco Avrai modo di considerando che lo carri in qualsiasi attività Vabbè Sto partendo No 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 Scherzo vai vai Continuiamo con azzardo o preferite buttarci su le comp Compartiamo azzardo Vai Fanno in un'altra Fanno in un'altra Le comp sono stressanti Sono misi Che entusiasmo Siamo molto rilassati Siamo molto rilassati A stream come esce bene quando siete rilassati Eh lo so regà ma prima o poi le comp dovremmo farle Cioè Dobbiamo Dove dobbiamo riuscire Ad essere così rilassati Anche quando facciamo le comp Il problema è che Le comp Purtroppo Ho capito che si chiamano competitive Però io vorrei poter competere Che sia Insomma che ci hanno capito no? Eh sì Compete con Gente che Veramente Bravi Bravi però Vado a indizionare dopo stasera No Voglio trovare le parole giuste E Sai Quelle frecciatine Sì Ok competitive Va bene Però Beccare quella che stasera Non è competitiva È bruciarsi il fegato Il vero problema È che si perdono punti Eh Se non si perdessero tanti punti Non sarebbe così No Mi hai fatti capire No Dai una possibilità A tutti Però Dall'altra parte Anche la ricompensa Deve essere Altrimenti diventa come le quick Capito La leggenda Che ci Di tu Di che so Si fa commercio Su sta roba 200 euro Dipendo Dello Privato Io vi leggo Nel frattempo Confermo che sono Le astro a 50 Visto che vi ho Fatto L'autogestione Andate benissimo Perché Metti Il ratio Del Autogestione Tu stai a leggenda Stai con quelli di leggenda Stai a A Bestiale Becchi a quelli di bestiale E così via Però potrebbe Gestissi Diversamente La cosa Con proprio Un radio di bravura Con il famoso elo C'è gente che si fa pagare Per tutto su Destiny Drag Compreso il raid Compreso I I I livellamenti Del personaggio Tutto Ho visto Cose Ho visto Anche gente Che si vende Il PG Direttamente Con tutto l'account Sì Sì Ficcata Quelli che sono i famosi Recovery Ciao a tutti Vendo PG Con Nick Giorno Con 3 O Account Con 3 PG Al 600 Con Cattiva condotta Arco Esotico Lululato Quanto Quanto varrebbe Il mio account Tipo Omashi E spadone dire Ah no Omashi Ma gn 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 Il tuo account vale un botte Un astima E con un faro Un faro delle prove Dei nove Un faro delle prove Infatti Andre Il Redrix Non l'hai fatto ancora No Lo farò a breve Il tuo account vale 857 euro Hai detto con tanta sicurezza Ti immagino col telefono in mano A fare moltiplicazioni Hai fatto tipo Che ne so 3 PG Per Non so che altro Vabbè In teoria fa più male ai corrotti Sta Sta pistola Giusto Uh Figa però C'è pure il decoro Per caso Ma è stabilissima Più stabile Dell'ululato Si Si è molto più stabile Adesso io le uccisioni Per Lululato L'ho fatta con questa In PvP Ci sono trovato molto bene Il mio account 600 euro Vabbè Sparate cifre Raga Ditemi Ditemi Secondo me Quanto vale Il mio account Vabbè Ma c'ha un aim assist Allucinante Sta pistola Oh Si sposta In testa Scusate il secondo Tu dove stai andando? Ci sono tre assedianti Piccoli Faccio io Questa mariarda Ma stie esplosioni Però fanno poco danno Ma in teoria Faccio più male Anche a chi A chi invade No? Si Esatto E non se invado io Entravi in entrambe Le direzioni Sembra Ma in termine direzioni? Si Sì Sicuro Pensavo mi stava a bollificare qualcuno Invece era l'albero La maliarda Mi hanno fatto raga Sono stato in arrivo alle rovine Sono stato diretto A quello da 12 Non mi hanno fatto 110 1200 Perché hai tre Alla fine del nickname In PvP non credo sia il top Oh ce l'ho di fronte Non lo vedo Dove sta? È al Al boschetto a sinistra No ma ha preso Dai Ma non mai ha preso Il simulatore c'ha un aim assist Esagerato Però dietro al muro Tutto dietro al muro Dai dai su Non perdiamo sta partita Che Bello Su su Ci avrà niente Pure se sta tutta altra parte Questo ti prendo Lo stesso il simulatore Siamo in streak Regà Non vogliamo resettare il grado No ovviamente Beh dovete fare come me Morire Particelle Particelle Sanno già 70 loro Pulisco al centro No non voglio Vaffanculo Vado io Appena Li davano un po' di vita Che c'è la super Vado Anzi Aspetta un altro po' Iniziamo a evocare Prima il nostro Ah no Vai 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 Bang Mazzana Tripla così proprio Tutte e quattro Bella Ma ci mancano due particelline Regà Penso prende qua Vai Vai Raga tirateli tutto subito Perché Ci fregano Se no Vai freccione Vuoi volete andare voi No 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 aspetta Aspetta non andare Non andare Eh vabbè Eh ci stanno guardando Ci stanno allevare Ok ho fatto le magliarde Non è andato Tirate Qualcuno mi tiri su Apo comincia ad andare Apo Preparati Preparati Vieni vieni Non è andato Vai vai Fai Scappa Scappa Bravo Mamma mia Bella Bravi Bella raga Bella Sferete Prendetele Eh non ho fatto in tempo Mazza Sarà tosta questa Eh beh Perché abbiamo perso Quella parte iniziale Dove abbiamo Cazzeggiato un pochino Beh l'asso di pick Ci sta che sia forte Sì infatti La penso come drag Ci sta Comunque c'è una quest Da fare Infatti no Non so se potrà Essere forte Come Cioè L'ultima parola Potrà essere forte Come l'asso di pick Dipende come Che perk ci danno Eh Vabbè Non penso che Non penso che lo cambiano Guarda che l'asso di pick Non era così eh No l'asso di pick Era diverso Dunque guarda che Il Sto coso del Cattiva condotta Spara bene Oh c'è un urco Veramente era Era il secondo Questo di urco C'è l'asso di pick Che col memento muori E' fortissimo Boh io adesso Non ho ancora visto Le statistiche Ma secondo me Cattiva condotta C'ha più aim assist Del D'altro lato Io ho trovato Abbastanza simili Poi Non l'ho visto Le statistiche Boh non lo so Amo io adesso Perché l'ho preso Per la prima volta In mano Mettete Mettete Detta così Pare brutto Ma Avete capito Certo che Non può Compete con l'unulato No No assolutamente Ti parlo Di feeling Ragazzi Se le mettete L'invado Che c'ha la super Eh ho liberato Adesso l'urco Al centro Aspetta che Ne prendo altre due E qua Arrivo Quelle che mi stanno A mettere parecchi Per quello Arrivo 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 Ci hanno mandato Un bell'orchetto Ah sbrigatevi Sbrigatevi Nooo A sinistra Continuano a mandare Roba questi A sinistra Ah ah Fatto Fatto Che culo Vado io? No vedo E queste esplosioni Non tolgono niente Regà Sì Dovrebbe aumentarle un po' Anche perché Lo usi prettamente In pv Questo Cosa Oh a questo Mondo in dura Sta super Attenzione che vado Nera raga Mettetele sul Pvp Comunque Di sotto Eccoli Non lo vedo Sinistra Sinistra Porca troia Mi stavo nascondendo Merda Ma forse Asa Mi mando un orco Hai mandato un orco Corrotto ad attaccare Altri guardiani Senza già le loro urre Non ne servono tante Vabbè Basta Basta Sto not forgotten Com'è Chi c'è l'area In gramma eccelso Masci Limpato come prima Sapi che uno ha fatto la sua Quindi Martello ci vuole Ne lancia male Ok Maliarde fatte Vai 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 Aspetta 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 È un per uno È per uno È per uno Aspetta un attimo Cioè si sono messi tutti quanti Uno Ognuno ha lo spawn Vediamo un possibile Vai Apo Vai 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 Apo Tirateli tutto raga Vai che lo facciamo Vai che lo facciamo Bravi Mamma mia Mamma mia Melted Configito Primordiale Corrotto Sì non l'ho trovato Fortissimissimo Sto coso Attenzione Quindicimila 40 Dovrei fare l'ultimo Penso Io ho fatto Beh direi buono Abbiamo resettato il grado Abbiamo resettato il grado Abbiamo preso il cattiva condotta Preso il mantello Dell'antica apocalisse Resetta Lo vuoi sentire Ti dà fiducia Te lo dico subito Guarda Lo sto facendo In questo secondo No Mi ha dato un invito Misterioso L'invito Lo vai a riscattare Ti dà qualcosa Ti dà qualcosa Dal fiducia Non è il fiducia Probabile Potrebbe Come non potrebbe Esatto Ricordo di passare il live Per la zoom Ovvio Ciao KijD Bella Buonanotte Quelli di prima Devastator Sì Due erano I stessi di prima E Vabbè Poi Torno Alla torre Ti dico Che cacchio Da sta roba Se avvingiamo La resistiamo Anche noi Sì Se avvingiamo Sono quelli di prima Due sì Ah Vabbè Un altro è al 599 A bestiale 3 597 Ah Colpi esplosivi E telemetro Se non ricordo male Ma che Il pacchetto Drag Il pacchetto che c'ho io Da Dal fiducia Con Colpi esplosivi E telemetro Ma scritto Sandro Può entrare in party Ah certo Quanto dà la vittoria con strict 5 300 Non lo so Perché io avevo due Mancavano 230 punti E me l'ha dati tutti Me l'ha da 300 qualcosa Guarda se non ci arrivo per tipo 20 punti 10 punti Vabbè Day and night Buonasera Buonasera Non lo so Buonasera Ciao Sandro Fate gli auguri a Sandro Che sei lavorato Per favore Quando? Oggi Auguri E perché non ci dici niente Auguri Ma hai fatto la tesi Hai fatto tutta quella robetta là Che bello So contento Augurissimi 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 Grazie Se l'avevi nato sulla mezza è bruciata Insomma Bravo bravo Complimentoni Complimentoni Devastator e quell'altro Se ne sono andati Sì hanno detto no Vediamo Di nuovo questi Io mi chiamo Devastator Non posso non devastare Capito Ha quittato Ha reggiquittato direttamente Quindi sono in due adesso Sì Se quittano pure loro Almeno Ci da stare I nostri amici Comunque Sono fiero di vivere tutte le Sono un 600 Sei al 600 Grande Sai quante volte ho fatto il raid? Zero Eh sì Prima mi ha scritto Un ragazzo in chat Che ti ha beccato in azzardo E chi a me? No Come si chiamava? Ah no Non lo so Non mi ricordo Tu mi hai scritto Quitta? No L'ho scritto Cosa ti è sembrato Del best pvp Player Ita Ita in the world O Ita del world Guardi Ita Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Ma anche tu Con questa voce Ma anche io Ma sai che mi son preso Proprio sta merda Mi sa Quando siamo andati Al games week Ma pure tu No vabbè Ma si perché la sera Stando in giro Col freddo Ero solo con la felpa Non lo uccidete Fate uccidere la granate Grazie Ma l'avete ucciso Pure Sandro malato Eh beh Raga non la prendete con calma Che questi sono in quattro No 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 Sandrone Ti salutano Ti salutano dalla chat C'è anche Dragtop Ormai Il tuo estimatore Ah ma sei in live? Sì Siamo su every size Stasera Ah Allora buonasera a tutti Chiedo scusa Se non vi ho salutato Sera a tutti Belli e brutti Mi ha dato anche il Ma che bello Che bello Finalmente mi ha dato Lo shader che volevo Sto gioco Quale? Chroma di azzardo Quello tutto argento Ah sì ce l'ho Carino Sai che cambia A me mi manca Quello che ho detto Perché è un po' specchiato E quindi Si basa Le armi sembrano Placcate d'argento Sì perché in base al In base all'environment Il colore cambia Ma che ne so L'ho detto apposta All'ambiente All'ambiente circostante Sì 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 Ma c'è caso Sì bene È fatto che ti fanno Tutte le armi Io mi vado Perché mi sanno Non ho la freccia Ho fatto troppo rapidi Sai che ce l'ho anch'io La sua Ho fatto tutto dragtop E penso che È il mio fan numero uno Che mi apprezzo più di tutti Mi apprezzo più di tutti Mi apprezzo Apprezzo più lui Ma cos'è sta cosa Che se ne sono andati tutti allo spawn Sono fermi Sono fermi Non ne dovevi invadare No sì Stanno fermi Lui continuo Io continuo Uccide Eh sì Uccide Stanno fermi Tutti quanti Se ne sono andati tutti allo spawn Se ne sono scappate Appena sono arrivati C'è un bel per due La mia spontaneità Hai capito Andre Aspettate un po' La mia spontaneità Dai Uccidiamolo Senza pure Senza che così La sua Sì sì Vai vai Fuori di primaria Tanto Invadono Attenti Dalla base Morto Mamma mia Stasi il resto cecchino No Anca pochissimo Ma perché ci sono fermati Ci hanno rinunciato Sì Sono entrato Ho fatto due cecchina Adesso Hai visto che roba Pec Vedi C'è chi apprezza Il mio poliglottismo Invece qualcun altro No Cos'è una skill È una skill Sì La sfonda Sessuale Comunque Andra Devo dire che il tuo audio Dell'altro giorno L'ho ascoltato più volte Il mio che? Il tuo audio Che mi hai impiegato L'altro sera L'ho ascoltato più volte Eh lo sai che io ho Una memoria di un cicreto Un cicreto Sì un cicreto Criceto Non cicreto Non cicreci Cirecio Eh non mi ricordo Non ciccio Non abbiamo notato Non abbiamo notato Ti va di fare le comp Stasera Ma mi raccomando Comportati bene Ah sì sì Ah sì sì Eh beh Sai che c'è C'è un codice etico Da seguire A volte Ma io ero contento Perché La mia fama Mi precede Vuol dire Tipo le parole esatte Che ha usato Ma sci Prima di usci Esatto Sì 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 Proprio quelle Ma io pensavo Di essere già uscito No sì Purtroppo si è sentito tutto Purtroppo Per fortuna Che ha detto Volevo dire Criceto Mi è uscito un po' strano Regà Ci credo Lettiamo e vediamo Lettiamo e vediamo Aspetta C'ho la super Eppure le pesanti Su tutto A meno che non volendo A qualcuno Come preferito No uguale Io non c'ho niente Ci credo Ci credo Ci credo Eh dobbiamo Dobbiamo qua veloci Niente È too late Vadano pure No 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Ci vedete sto qua Massa Base C'è la base Attenzione Arriva verso il centro Vado Eh no Fucili a pompa Non si può scrivere Su sto canale Eh beh Ci sono delle cose Che Sapete che vi dico Invado Non è vero Eh sono entrato io Sorry Si può scrivere Fucili a BJ Quello penso di sì È un'ottima alternativa No dai Vabbè Ma lo strigone Quando vuoi Uscili a BJ Ma cazzo ti pozzi Uscili a BJ Oh là sopra C'è un tipo Eh Come le prendiamo Con le particelle Bravo Mi ha lasciata una La prendo io Eh perché C'hanno 15 Giusto Potete mettere Gli spazi Potete mettere I numeri Potete mettere Quello che volete Il modo c'è sempre Il modo c'è Per aggirare I sistemi Raga Fucili a chi no Perché ne metto Solo tre No sono in quattro Mamma mia Full team Stang Per quanto faccio Il colpo alla destra Col cecchino Ci sta Il bang Allora Vale Ho una domanda Per te Di che Invasione Centro Presurato No Ciao Bang Sono ancora 1.9 Ma questa pistola Fa niente No vabbè Ma perché liscia Il mio razzo Sinistra No Cazzata Non lo vedo Dov'è In garage Come si chiama Ti vedi Visto Preso Ciao Doffi Buonasera Ma direi che possiamo ararlo Sta per tre Sta facendo un po' male No aspetta Lo uccide l'invasore E' l'invasore E' l'invasore Vediamo se ci sta Sto reset Questo grado No Mick Buonanotte Sì No Io no A me mancano Tipo 110 punti Ma no Ma sci 14.890 Vale male Vale male Che palle Signori Mentre Noi saremo qui a cazzeggiare Io vi Suggerisco Se volete Di salutare i vostri fans In questo momento Ciao a tutti Anche a tu A te Che mi hai seguito Tutto sto tempo Sarei un bot Non lo so Ah perché giusto C'è anche Avo Ciao Dragtop Io saluto solo te Per stimatore Signori No siamo ripartiti Per un'altra partita Niente Va bene Facciamo un'altra Niente Come non detto Come non detto Ne facciamo un'altra Quindi ritiro i saluti Ritiro i saluti Ma tu Che mi stai guardando Ti prego Guardami ancora Ma perché Chiudi la vo Chiudi la live Ma no Ma lascia aperto Lascia Quando non vedo Quel numero A salire a 2 Prima salgo a 6 Ma sto stimando Quella a lei Non capito L'ultimo video Del ride giorno Ti sei spiegato malissimo Non ci ho capito Una sega Eh oh Caro Toffi Che dire Mi spiace Mi spiace Che dire Ti dà poco qui Mi non lo capisci Eh Devi chiedere da tutto Eh oh Anche Ambre è per pochi Eh sono per pochi Sì Mi spiace Quello di Riven O quello del cuore Così facile Lo step del cuore Ragazzi Fa la staffetta Entra uno Prende l'altro Entra uno Entra l'altro Pulisci tutto Fai tutte super Lancia razzi E sei arrivato E sei arrivato Ti fa 100 punti Appena un attimo No ma a volte Arrivano dopo Regà Sì Sì L'ho appena presa Tecno Questa è Il Cattiva condotta Si prende Facendo la quest Qui su azzardo Beccando il boss E poi facendo Tanti step Eccetera Sto accendo i video Di 13 minuti No 10.1 Secondo Eh beh Dobbiamo pur mangiare Noi youtuber No Giustissimo Ah Quindi mi dici Che lo fai solo Per un tutto Ero reso conto Personale Assolutamente Io come so Non c'essi per carità Stupido Villo Ingenuo Che ingenuo Ciao ciccio Buonanotte A domani Purchà Chi è che mi spara Dunque c'è anche Una buona Gittata Me ne lasciate una Niente Eh L'hai detto Troppo tardi La guadagno Se non muoio Sempre Bomba Muoio con 15 Particelle Io muoio con 4 Ma Non voglio morire Uguale Via No basta Vendor Basta Vendor A me Ho morto male Sorry Cattiva condotto Lo vedo come un Ray dei Ratti 2.0 E In che senso Nel senso che fa schifo Come il Ray dei Ratti Con il Ray dei Ratti Si fanno tante cosine Carine Ragazzi Ammazza anche Riven Eh Se provano In fact Si deve provare Una volta Riven Con il Ray dei Ratti In Fluless Magari No Lasciatemene una Vuoto No Sto morendo Fatto l'urlator Domanda a New Ho ripreso testo Di da poco E non so come si fa A prendere il secondo Sema di luce Per attivare la seconda Nuova super Esatto Si ha risposto già Dragtop Che stasera È di un lucido Tirato a lucido Dragtop Stasera In teoria Anche la prossima Settimana Se vuoi aspettare La prossima Settimana Dove Dovrebbe esserci Di nuovo La possibilità Di entrare Nel trono Di Mara Qualcuno lo vede? Si è A rovina A risultare A rovina Mi balla davanti Proprio Mi sto col cecchino Ho un caccio Entro Genius Alla destra Mi sa A rovina Non lo vedo Ma io perché sono morto? Ok sono caduto Nella fossa Thank you very much Probabilmente ci invadono Probabilmente Apo deve Cominciare a rompere le patte Sta a 2 Aspetta Aspetta Spariamo lì di primario Merito del Montenegro Ma sì Ma non facciamo le super Mi sa che Non conviene Questi stanno ancora a 26 Vai con la Primaria Guarda che scende lo stesso Sparo pure senza mirare Tanto perdono le particelle Questi a caso Un po' una partita questa Eh vabbè purelli L'hanno giocato in due E mi andavo per uccidere Eh la stanza delle due anime È particolarmente complicata Da spiegare a parole Ma una volta che ci sei dentro È abbastanza semplice da capire Ho messo anche alla fine Il gameplay Così da farti capire bene Quali erano le cose da chiamare Antumbra E non è così difficile Come sembra Sì Ammazzatelo Ti prego Uccidetelo Vado a metterli Un pezzo da 5 Va bene Oh ma quelle particelle Lì per terra Spregoni che siete Comunque se Marte ti mettono Una maschera di Kate Sarebbe bellissimo Sì La maschera di Kate Ho detto di sì Ti pare che non la mettono Mettono quella Mettono quella di Shaxx Beh su Destiny 1 C'era anche quella di Uldren Chissà se la mettono Vabbè 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 Anche di Eris Morne Dov'è? È vicino al centro Visto 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 Morto Ma sprega tutti i colpi di bomba Per non uccidermi Sei un genio Bravo E mo muori Mo muori Guardino a terra Attenzione Mi hanno pushato Con l'angegrado in 2 Ma io sono a 15 Ecco perché non prendo Porco per loro No No Sei caschiato? Lo prendo Vabbè una particella No no una No No Non sai che ci voglio sempre lì Quando voglio scendere A depositare Mi voglio sbrigare Salto tutto Me lo faccio Sto full team Fai fai Ma hai provato a farlo poi Doffi Dopo la spiegazione Perché sono sicuro Che una volta che ci sei dentro E senti la spiegazione E ci provi a farlo Vedrai che lo capisci meglio Piuttosto che Soltanto sentirlo Vasore sulla sinistra Ce l'avevo dietro Sì praticamente sì Eh però ai corrotti c'è da dire Che comunque un po' di male Glielo fa a Starm Ho fatto la maliarda Con due caricatori e mezzo E' sulla destra Sulla destra Vicino al portale Sopra Vai su Facciamolo veloce Sì 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 Mamma mia quando gli ha levato La pistola Sciolto Diciamo che uccidere le maliarde Ti permette di far andare più veloce Il moltiplicatore Per poi far male al boss Quindi sì Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dai Andiamo in torre Eccolo Ah te l'ha dato Sì l'ha dato Ma vedi a me no Che schifo E' un perk Che va uno contro l'altro Se non sbaglio Che tiro d'apertura E' per guardare il minino Al primo colpo E quell'altro è bruciapelo Beh Schifo Vabbè meglio di niente Eh vi confondete Perché è complicato Da capire proprio il coso Non è che è semplice Da fare Dovete semplicemente Capire bene le meccaniche Poi una volta che avete capito Ci siete Non cercate di Chiamare tutti e tre i simboli Ma chiamatene soltanto due Una volta che avete capito Che uno è penumbra L'altro è antumbra Il terzo Lo fate In esclusione Una volta che avete fatto il primo Fate il secondo Quando prendete il terzo occhio E' sicuramente quello Sia che è antumbra o penumbra Quindi Si conviene fare così Ciao Dark Ciao Lampone Ne approfitto Signori Mentre siamo in viaggio Con questa Vista suggestiva Di risalutarvi Buonanotte 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 Anche a te che mi stai guardando Eh si Abbiamo fatto un po' più tardi Perché ho iniziato dopo Per varie cose Quindi Ne approfitto Ne abbiamo approfittato Per allungare un pochino Raga Vi ringrazio della compagnia Serata fruttuosa Abbiamo preso Il KTA condotto Abbiamo resettato Il grado di azzardo Quindi ci sta Io vi do appuntamento A domani Per quelli di voi Che vogliono seguirmi Sul mio Canale Se volete Potete passare da me Mi cercate come giorno gaming Da per tutto I perk del fiducia Ma no Ma tanto io non lo droppo Il fiducia Non ci interessa Drag Vedi Te lo faccio sapere domani Così domani torni Ti tengo Così Dai aspetta 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 Sei sicuro che me lo dà Il fiducia Secondo me non me lo dà Comunque Domani Penso che saremo ancora Su Destiny Magari domani Ecco facciamo Abbiamo già fatto tutto Quindi presumo Che l'ultima cosa Che ci rimane da fare Sarà il pvp Faremo quello E Devo dargli Che devo fare? Questo Ah ecco Adesso si Genesi E carica esplosiva Vabbè Io lo dirò dopo Automashi Genesi E carica esplosiva Quindi sono perk random Però me l'ha dato prodigiato Mi freggio gli scudi I nemici con quest'arma Ricarica il suo caricatore Con le munizioni Ah vedi che c'è già Cromato azzardo pure Eh prodigiato sulla cittata Però eh Ah sono fissi Beh non è male Però eh Prodigiato sulla cittata Non è male Buono Signori Vi saluto così Con fiducia Prodigiato nella cittata Passate una buona notte Ragazzi Ci vediamo domani Ciao grazie di tutto Bella Grazie Grazie